Buongiorno, che bella cosa, l'Inter ha battuto il Napoli da 0 a 1. Negatomo e Callaion castigano i nierazzusi. In realtà Callaion ha segnato grazie a un errore di Negatomo, però il Napoli aveva avuto un sacco di occasioni da gola, l'avrebbe potuto segnare anche prima. A San Sire c'erano solo Iccioli per due squadre, dopo scari il Napoli che vincente si incolla di nuovo alla Roma, innaffio felice e la Granda Cempia. Per un'occasione sfruttare ce ne aveva perduto. Le mosse del Tecnici dal punto. Grande Napoli. Vi darci il Napoli ad alcune ripartenze con due da Ombrossio e D'Andrea. Ne darve se a fare il match attaccato all'Inter, però ha vinto il nostro grande Napoli. Abbiamo vinto noi. Mi spiace per l'Inter, ma siamo il grande Napoli. Nessuno ci ferma. Quest'anno andremo in Champions. Grazie.